ok, sta per cascare tutto aiuto, ma perché non sono professional io? perché non sono professional? mi sto scaricando le luci, paura hey ladies, bentornate sul mio canale finalmente arrivo con questo video ho pochissime luci, cioè proprio niente perché sono anche scariche le mie luci professional e questo però è un video importante perché è un video nel quale vi do una notizia in realtà l'avete già scoperto perché mi avete visto in pubblicità ovvero su Real Time sì ragazze, sarò una concorrente di Shopping Night nella tappa di Firenze non vedo l'ora di mostrarvi appunto la puntata è stata una cosa bellissima un'esperienza graditissima un'emozione grandissima soprattutto perché tra migliaia e migliaia di ragazze che hanno fatto il casting appunto come me sono stata scelta insieme ad altre concorrenti quindi niente, è una soddisfazione appunto riuscire essere riuscita a partecipare a questo a questo programma fantastico per noi ragazze perché sapete Shopping Night per chi non lo conoscesse ma penso che lo conosciate tutte è un programma appunto di Real Time durante il quale delle ragazze vengono chiuse di notte all'interno della Rinascente e possono scegliere tutto quello che vogliono però appunto devono seguire il tema dato dai giudici che sono Enzo e Carla Enzo Miccio e Carla Gozzi che immagino conosciate anche loro e praticamente appunto chi riesce ad azzeccare gli outfit quindi chi ha più buon gusto può essere la vincitrice e portarsi a casa appunto l'outfit completo è stata un'esperienza bella io comunque niente questo è soltanto appunto per darvi la notizia per dirvi sì non avete le visioni le allucinazioni molte di voi mi hanno scritto qui su Instagram non sapevo più come dirvi che avrei girato un video per annunciarvelo però lo faccio stasera a fretta e furia sì sono una delle concorrenti di Shopping Night ho visto che il programma andrà in onda dal 12 maggio non so bene in quale puntata sarò io ancora ma vi terrò aggiornate insomma appena saprò qual è la puntata in cui ci sono anch'io magari ve lo whatsapp o forse siete voi non lo so appena riesco a sapere qual è la puntata nella quale ci sono io insomma ve lo farò sapere poi magari più in là se vi va vi faccio dei video un po' più specifici sulla mia esperienza magari anche dopo che avete visto la puntata e adesso non posso dirvi molto anzi non posso dirvi niente vi volevo soltanto dire che sì sono io sono su Real Time e sono contentissima e tra l'altro avete visto in pubblicità ci sono io questa cosa mi ha riempito il cuore di gioia insomma anche perché mi sono divertita da matti e niente ladies vi mando un bacio grosso e ci vediamo al prossimo video ciao